E che abbiamo argomento ancora in crescita all'Università del Molise, infatti il Ministero assegna all'Unimol dei posti in più sia a medicina che a scienze di formazione insegnanti. Ancora note positive di qualità per l'Università del Molise, il Ministro dell'Istituzione ha infatti firmato il decreto con il quale stabilisce in 75 il numero dei posti disponibili per l'immatricolazione al corso di lauree in medicina e chirurgia, tre dunque i posti in più rispetto all'anno passato. Aumentano dunque le scienze all'Unimol per i maturanti, giovani e più in generale per tutti coloro che aspirino al camice bianco preparandosi a sostenere il test ministeriale. Ed anche a questo l'Ateneo ha inteso ancora una volta dare risposta con il percorso didattico e formativo per la preparazione al test di accesso a medicina e chirurgia ed anche per l'ammissione alle professioni sanitari. Dal versante della formazione insegnanti, 135 invece i posti assegnati all'Unimol per le future generazioni di maestre e maestri. Una conferma importante che avviene dopo che nel 2016 il corso di laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria vedeva una disponibilità di 110 posti. Il raggiungimento di questa ennesima certificazione per l'area medico-chirurgica e per la formazione insegnanti, sottolinea il Rettore Palmieri, rappresenta da un lato un ulteriore importante obiettivo che ci conforta e sprona a continuare nella strada intrapresa ed è anche il risultato di una sintonia comune con tutti i soggetti operanti nel campo della salute. Dall'altro, aggiunge Palmieri, si spiega grazie al lavoro di consolidamento e arricchimento del piano di studi di formazione primaria, oltre che alla qualità e dalle opportunità del percorso di tirocinio svolto nelle scuole del polo del sistema dell'istruzione italiano e alle mirate specifiche politiche di orientamento in ingresso.